L'ordale violate! Nei primissimi anni del secolo il rinnovo della triplice alleanza fra Germania, Austria e Italia contrastava con la piena applicazione del programma irredentista. Uomo concreto, positivo, Battisti sposta allora la sua lotta su obiettivi realizzabili e immediati, rivendicando la separazione amministrativa dal Tilolo e l'autonomia del Trentino, unico mezzo per garantire più eque condizioni di vita al popolo e preservare l'italianità della sua terra. Battisti vede già, prima della crisi europea del 14, i problemi del Trentino come un aspetto particolare di un vasto quadro non solo italiano, ma europeo e internazionale. Ogni mezzo, ogni pubblicazione deve contribuire a rendere più popolari le sue idee, a rafforzare gli strumenti di lotta per l'autonomia, per l'istituzione di un'università italiana a Trieste, per la libertà di stampa contro il militarismo asburgico. Consigliere comunale fin dal 1902, nell'undici Cesare Battisti viene eletto deputato di Trento al Parlamento austriaco, dove ripropone tra gli altri il problema dell'università italiana. Eletto nel 1914 anche alla Dieta di Innsbruck, il 12 giugno alla Camera di Vienna, egli sfida la maggioranza avversaria, dichiarando la sua profonda avversione a ogni spesa militare e al rafforzamento dell'esercito austro-ungarico. Grazie a tutti!